Amici di Catanzaro Sport24.it, appassionati di grande calcio, un saluto da Andrea Taggiano. Oggi per il recupero della 22, di maggior giornata di campionato, andiamo a vedere il Potenza prossimo avversario del Catanzaro, partita che si disputerà martedì 22 febbraio alle 21. Allo stadio Alfredo Viviani arbitra Marini di Trieste. Il cammino del Potenza fin qui dice 22 punti, in piena zona play-out, a più 6 della retrocessione e a meno 11 della salvezza. Potenza che realizza torno 25 reti e subiti 44. Ma adesso andiamo a vedere la probabile formazione di Pasquale Arleo per martedì sera. Potenza con il classico 4-3-3, Marcone tra i pali, Nigro e Zampano ai due esterni, di centrale Giglie e Piana, Mediana, Zenuni e Sandri, Ricci in cabina di regia, affiancato da Cuppone, Volpe e Burzio. Grazie a tutti.